Buonasera, bentrovati, nuovo appuntamento con Topic. A Topic questa sera voglio parlare di un argomento che sta particolarmente a cuore a tanta gente. Parliamo delle famose truffe online perché vedete ci sono tanti anziani, diciamo meno giovani, che non conoscono bene il variegato mondo dei social e spesso vengono truffati, cadono nelle maglie di cybercriminali perché vedete ora non c'è più la criminalità, o meglio c'è anche la criminalità organizzata che fa i crimini che ormai conosciamo, spaccio di droga, delinquenza diffusa, rapine, insomma delitti di ogni genere. E poi ci sono questi criminali che dietro una tastiera quotidianamente truffano cittadini di ogni età, soprattutto coloro che chiaramente non sono nativi digitali perché i giovani sono più scafati, più navigati, capiscono subito se c'è qualcosa che non funziona, se c'è qualcuno che ti chiede qualche cosa che non è ovviamente normale. Ecco invece coloro che non sono abituati spesso cadono nelle maglie di questa gente senza scrupoli, a svuotarti un conto corrente, a farti acquistare articoli chiaramente che tu non avresti mai acquistato, insomma spendere soldi dalle carte di credito e questo diventa realmente un problema, tant'è che ci sono vari importanti riunioni che vengono portate avanti dalle forze dell'ordine, dalle istituzioni in generale. Vedete, le poste italiane hanno creato questo incontro con la Polizia di Stato per parlare appunto delle truffe online, come potersi muovere, come contrastarle e a Catania si sono riuniti praticamente tutti i direttori delle varie filiali delle poste, tra l'altro questo accade a Catania ma sarà un discorso che verrà poi portato avanti anche in altre città, presumo a Palermo in primis, perché vedete parlare di questo argomento essenziale, fondamentale, necessario per chi non conosce e per chi può essere vittima ogni giorno di questi truffatori. Vedete, in un contesto così di spiegazione che viene data, c'è un dettagliato comunicato stampa dell'ufficio relazioni esterne della posta, dicevo che a Catania c'è stato il dirigente del compartimento della Sicilia orientale della Polizia postale, Marcello Labella, che ha spiegato un po' come ci si deve difendere e ha toccato questi temi che per tanti possono sembrare termini assurdi, non comprensibili, perché vedete è il periodo dell'inglese, qualsiasi cosa si vuole dire è bello dirlo in inglese, quindi magari chi non ha studiato l'inglese ma non conosce addirittura forse nemmeno l'italiano si trova a fare i conti con dei termini che sono ovviamente assurdi da poter capire. E allora io voglio entrare nel merito perché vedete qua si parla di fishing, uno direbbe andate a pescare perché fish sembrerebbe quasi uno che va a pescare, e sì è proprio così, fishing arriva e prende la sua consistenza dal pescare, pescare diciamo io direi i polli, non i pesci, o se vogliamo declinarli a pesci possiamo anche declinarli a pesci perché chi cade nelle maglie di sta gente si sente poi preso in giro, truffato, questi signori con il fishing cosa fanno? Tramite mail richiedono dati, vi portano sulla strada di dover interagire con loro e vi truffano, entrano nei vostri dati sensibili, cosa che non bisogna mai assolutamente fare, non dare mai via internet, via mail i propri dati sensibili perché le poste italiane in questo caso non chiedono nulla via mail, vi chiedono un appuntamento presso l'ufficio postale dove voi potete andare comodamente e chiedere tutte le delucidazioni del caso, ma mai fornire dati sensibili tramite internet, questo è fishing, è la truffa via internet. Poi c'è anche lo smishing, lo smishing direste voi ma di che cosa stiamo parlando? Ecco lo smishing è gli sms, sempre con il discorso di pescare, tramite sms, tramite telefono, anche tramite telefono voi spido chiunque a dire non mi ha chiamato un operatore oggi sul telefonino per propormi qualche cosa. Ecco, magari alcuni saranno pure regolari e legali, ma nel contesto generale ci sono coloro invece che vogliono truffare, avere dati, vi mettono anche, vi costruiscono ad arte delle situazioni che vi portano poi ad un ragionamento che va nella direzione di fidarsi e questo non è ovviamente un contesto su cui andare a navigare. Lo smishing è legato al fatto che c'è proprio l'SMS, l'audio che viene proposto da questi sedicenti imbonitori che trovate ovviamente sulle linee telefoniche. Poi c'è anche il vishing, questo è anche un tipo, una forma di sms chiamate di operatori in maniera vocale, proprio senti la voce che ti dice, ti dà l'istruzione, ti dice come comportarti, insomma tutte queste sono truffe che dalla Polizia di Stato dicono e spiegano come ci si può difendere. Bisogna subito denunciare per dire quando trovi qualcuno che vuole truffarti e ripeto questa gente è ora diventata incredibile perché riescano a fare cose inaudite. Voi immaginate negli ultimi tempi c'è stata una truffa, c'è stato un hacker che addirittura è entrato all'interno del governo, è stato arrestato, identificato, ma erano mesi che lo cercavano, è un gelese che è riuscito a far sì che si potesse entrare e a catturare dati sensibili, ad entrare nel merito senza essere individuato perché aveva diversi profili. Immaginate come è terribile muoversi in questo contesto. Ci sono dei ragazzi, dei giovani, gente che non sa più come spendersi per fare qualche cosa che vada contro la legge perché attenzione, non è che qui c'è il divertimento perché tu sei bravo e cerchi di fregare il prossimo, questo è un atto delinquenziale che va punito, così sarà punito questo soggetto che è stato identificato dalla Polizia, è stato beccato con le mani nella marmellata, come si vuol dire. Bisognerebbe beccarne tanti altri, ma arrivano anche dall'estero delle catene di Sant'Antonio che difficilmente si possono spezzare, è molto difficile anche per gli addetti ai lavori. Questa è la situazione di Catania e poi voglio darvi alcuni consigli che leggo chiaramente da questo comunicato, diciamo che vado alla sintesi, ma lo dico per voi che spesso avete delle incertezze, delle insicurezze e vedete anche che sui vostri conti magari ci possono essere delle uscite non preventivate, non autorizzate. Bisogna stare particolarmente attenti, purtroppo oggi perché c'è sempre il nemico dietro l'angolo. E allora dicevo, Post Italiano dice che per quello che riguarda le post pay, ormai tutti sono in possesso di una post pay, non chiedono mai i dati riservati, non chiedono mai password, non chiedono mai i dati, quindi partite già da questo presupposto. Se qualcuno vi chiede dei dati per la vostra post pay, non dateli, rivolgetevi all'ufficio postale direttamente per chiedere consiglio e per capire cosa è successo. Non rispondete alle mail, sms, telefonate o chat da call center in cui vengono chiesti i codici personali, ribadisco, chiedono sempre i codici personali, vi fanno anche dire sì e poi loro le montano e cercano di entrare per portarvi fuori strada. Controllare l'attendibilità di una mail, nella mail c'è sempre nel mittente da dove arriva, controllate da dove è stata spedita la mail, questa è una forma minima di garanzia, anche se bisogna sempre stare attenti perché questi ormai progrediscono nella truffa, trovano sempre l'inganno. Scaricare, non scaricate nessuna forma di allegato, non scaricate gli allegati se non siete certi, se non arriva da qualche vostro parente, da qualche vostro amico, da un'azienda che voi conoscete, sempre guardando il mittente, è molto evidente, quindi cercate di basarvi su questo. Non cliccate sul link con contenuto nelle mail, se le giudicate sospette, ripeto, bisogna sempre stare in allerta, controllare la mail, da dove arriva, da dove viene generata, c'è scritto, perché si vede, digitare direttamente l'indirizzo internet per andare su poste.it, c'è un indirizzo, andate su poste.it e lì potrete fare anche delle vostre domande. Queste sono forme di garanzie necessarie che dagli uffici postali vi possono dare. La cosa fondamentale che voglio sottolineare, per questo che ho dedicato questo topic, perché tante volte qualche vostra mail aveva questo tenore, perché non se ne parla mai tanto di questo argomento, perché questa gente prende sempre più piede. Noi ormai navighiamo tutti, abbiamo i telefonini, facciamo acquisti, facciamo la spesa, utilizziamo veramente qualsiasi motore di ricerca per fare questo, quindi bisogna sempre farlo con particolare attenzione. Questo è il consiglio che vi voglio dare. Vi pare di aver detto tutto, come sempre io resto a vostra disposizione, vi ringrazio come sempre per l'attenzione, vi esorto a continuare a scrivere a redazione chiocciolaspazionotizia.it e a telefonare al 379-224-2420. Grazie come sempre per l'attenzione, arrivederci a domani. Grazie a tutti. Grazie a tutti.